Grazie a tutti. Il partito collettivo, in contemporanea Matteo Renzi diceva via dalle poltrone, anche lei Rosi Bindi, come risponde a questa provocazione? Se me lo chiede lui mi viene la voglia di restare. Ammesso che lui le vinca le primarie, non diventa segretario del PD, perché il segretario del PD rimane Bersani e io rimango presidente. Avete fatto molto per il paese, avete fatto molto per l'Italia, avete fatto molto... Fra questi esponenti del PD che secondo Renzi dovrebbero andarsene c'è anche Rosi Bindi che gli risponde così. Se me lo chiede lui mi viene la voglia di restare. Dicere a quelli che l'altra volta hanno votato di là, non soltanto non è un delitto, ma è l'unica condizione che abbiamo per non riperdere l'elezione. Io credo che noi siamo maggioranza del PD. Io credo che noi nel centro-sinistra siamo maggioranza.